L'influenza è una malattia molto contagiosa che si trasmette da persona a persona prevalentemente attraverso la respirazione. Gli ambienti chiusi, sovraffollati e con scarso ricambio d'aria, come le aule scolastiche, negozi, gli autobus e cinema, sono quelli in cui più facilmente si diffonde il virus dell'influenza. La vaccinazione rappresenta il modo più efficace per prevenire e limitare le complicanze ad essa correlate. Parte lunedì 7 novembre su tutto il territorio della nostra azienda sanitaria, la campagna anti-influenzale. I vaccini sono stati distribuiti e i cittadini potranno rivolgersi, già nei prossimi giorni, al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai centri sociosanitari deputati alla somministrazione. Ad anziani sopra i 65 anni d'età e cittadini appartenenti alle categorie a rischio, la vaccinazione verrà offerta gratuitamente tramite i medici di famiglia, i pediatri e gli ambulatori delle ASL. Nelle categorie a rischio rientrano bambini di età superiore a 6 mesi e adulti affetti da particolari patologie croniche. La vaccinazione è gratuita anche per le donne, che saranno nel secondo e terzo trimestri di gravidanza, durante la stagione epidemica, per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, per il personale di assistenza o i familiari di soggetti ad alto rischio. Obiettivo della vaccinazione anti-influenzale è prevenire le complicanze e ridurre del 70-80% la mortalità legata all'influenza. Come negli anni passati, con il vaccino anti-influenzale, sono disponibili anche dosi di vitamina D, utile per proteggere le ossa degli anziani, e dosi di vaccino anti-pneumococco. I cittadini che non rientrano nelle categorie a rischio possono acquistare il vaccino in farmacia.